Musica 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 Primo consiglio comunale del nuovo ente Rivignano Teor, una bella serata, si doveva terminare come si dice a Tarralucevino. Ma sì, un altro gradino verso questa scala che porta a una definitiva armonizzazione ormai dei due territori degli ex comuni di Rivignano e di Teor che come è noto dal primo gennaio si sono fusi ed è nato questo nuovo comune. Abbiamo eletto il nuovo sindaco, i cittadini hanno voluto che sia io a rappresentarli per cinque anni e stasera il primo consiglio comunale è quello dell'insediamento, del giuramento. E c'è anche un momento conviviale grazie a una ditta qui, l'abbiamo detto, del posto che gentilmente ha voluto offrire questo rinfresco. Una serata calda però è andato tutto lì. Ah sì, è una serata calda, d'altra parte c'è anche una stagione per il caldo, tutto è andato bene, ma soprattutto noi speriamo che vadano bene i prossimi anni perché saranno davvero anni nei quali si dovrà costruire le fondamenta di questo nuovo comune che abbiamo deciso di creare. Lei ha sottolineato una cosa, adesso inizia il bello. Ma sì, tante cose sono state fatte, tante sono ancora da fare. Credo che il meglio debba ancora venire perché appunto dopo aver costruito le fondamenta si comincerà finalmente a vedere questa casa e sarà, sono convinto, una casa bella. Ma il percorso sarà semplice? Ma i percorsi per grandi risultati non sono mai semplici, sono sempre percorsi tortuosi, impervi, ma bisogna avere pazienza e tenacia e con quelle si possono superare ogni avversità e quindi alla fine si può arrivare al traguardo. Dove hai riconfermato? Sì, io sono molto contento, ma sono contento per tutta la squadra, per tutta l'amministrazione. Stasera è stato un ottimo consiglio, primo consiglio comunale, l'intervento del sindaco è stato ineccepibile, ma mi è piaciuto, devo dire, anche quello del capogruppo dell'opposizione. Secondo me saranno buoni cinque anni, intensi, ma molto buoni. Sì, siamo contenti, la giunta sarà operativa già da domani, c'è tanto lavoro che ci aspetta e un augurio di buon lavoro in bocca al lupo a tutti. Marzio Giau, in questa legislatura avrà un'altra veste. Questa volta dovrò fare il capogruppo, un gruppo tra l'altro numeroso, 10 consiglieri più il sindaco, 5 assessori, 5 consiglieri più il sindaco. Un gruppo molto numeroso, più di quello che hanno in regione, quindi una maggioranza che è sinonimo di una maggioranza compatta. Ci siamo presentati, sì, con cinque liste, però come nella precedente legislatura poi il gruppo rimane unico. Penso che sarò protagonista e portavoce di un gruppo che farà un ottimo lavoro anche in questa legislatura. S. Palonti, è stata un'importante iniziativa per scoprire al meglio il territorio della provincia di Udile? M. Io sul territorio ci vado, ci vado frequentemente, ovviamente ho bisogno anche di confrontarmi con i cittadini che poi sono i portatori di interesse di diverse materie che seguo, in particolare quelle delle autonomie locali e quindi è un'occasione in più per conoscere tra l'altro un territorio che ha fatto un percorso importante, quello della fusione tra due comuni, è un tema che mi interessa. Fusione, un termine che è un po' in frioli e difficile far capire. M. No, non è vero. Secondo me i tempi stanno un po' cambiando e devo dire che la difesa strenua del Campanile rimane un valore senza dubbio sul quale condivido anche la posizione di molti amministratori e di molti cittadini. Però vedo che c'è un cambio di passo, c'è una visione diversa e una disponibilità maggiore a confrontarsi con questo tema anche perché la crisi economica e le motivazioni di difficoltà che spesso inducono gli amministratori sono insomma una benzina, un abbrivio per ipotetiche riforme di questa natura. Senta, possiamo dire Rivignano Teor come laboratorio per un friuli diciamo così in 2.0? Ma perché no? Questo potrebbe essere un buon esempio, io ovviamente mi auguro che questo esempio possa essere seguito da altri territori, ci sono in particolare nelle zone montane comuni di piccole e piccolissime dimensioni che probabilmente oggi vivono grandi difficoltà e credo che un percorso di questo tipo potrebbe essere virtuoso. Va però, deve maturare una cultura diversa, deve essere un'occasione di approfondimento e questo esempio può essere utile per questo tipo di approfondimento. Senta, in tempo in cui le province spariscono, la Regione che contributo può dare alle amministrazioni comunali per portare avanti, diciamo così, portare in porto poi i veri progetti? La Regione mantiene sempre un ruolo importante, fondamentale, è l'ente sovraordinato che deve bene o male curare la regia della gestione del territorio che poi rimane affidata agli enti locali. Noi abbiamo fatto una scelta, una scelta strategica importante, una scelta che passa attraverso l'eliminazione dell'ente provincia, come sapete, è una scelta che ovviamente trova delle contrarietà e chi parlerà probabilmente dopo di me le esprimerà tutte, convinti come siamo che un territorio come questo, un territorio non molto grande, di 1.200.000 abitanti, equivalente a una media provincia lombarda, sia possibile declinare un'architettura istituzionale che si fondi da un lato sulla Regione e dall'altro sui comuni. I comuni che però, come dicevo prima, spesso sono inadeguati, sono troppo piccoli, fanno fatica a rispondere e per questo la riforma che mi accingo a breve a presentare ufficialmente spinge sulle aggregazioni dei comuni e questa spinta alle aggregazioni deve essere accompagnata anche da parte della Regione da segnali importanti. Presidente, il territorio di Alstelle fa coniossi bene che la cultura è da provincia di Udi. Il territorio di Alstelle è un territorio importante perché questo flume ha una storia importantissima e è uno dei flume tra l'altro più importanti d'Europa perché ha una sua dimensione particolare. Il comune è del territorio che ha una storia leata proprio del flume stelle. Il comune di Rivignante è ora, hai domandato prima dell'assessore, una sorta di laboratori per creare un nuovo dialogo che magari in Friula lo manca. Sì, va bene, quando il comune si decide di mettersi insieme, questa fusione che hanno fatto tra Rivignante e Teore è un aspetto positivo. Se l'iente decide liberamente è giusto, non è giusto quando si imponga, quando qualcuno di persone dice no, invece di mettersi insieme. Io credo che se in altre realtà si può incontrare una fusione, perché in Friula ho vincente i 36 comuni, che sono un tanto uso, di una provincia di Udine in particolare, quindi qualcuno potrebbe fondarsi anche per razionalizzare i costi e per dare servizi migliori alla INTE. Però, ripeto, tutta la dissi fatta, con il consenso di INTE, bisogna domandare a INTE che pensa. Io credo che la INTE, di fronte a una situazione economica difficile e in una prospettiva di miglioramento dei servizi, si è seduta a guardare di fare le sfusioni. Cassinti, prima hai detto all'assessore, la Regione, insomma, in questo momento avrete di sostituire la provincia, la provincia di Plan Plan che l'arà a decadi, ma in questo momento la provincia di UNINTE contribui che ti dà, prima che veniamo tutti, come si dice, la parola è fin, a voi stai mandato. Sì, in picchia, non sei di qualche... Sì, in picchia. Esatto, bisogna vedere se si metterà le parole fin, perché bisogna fare una riforma costituzionale, insomma, la legge del Rio che è stata fatta all'inizio del mese di avril è prevista anche in molis provincis, quindi gli provinci non sono mortis, ma al di là di chi sta spiette, esiste una questione, in teneste regione, che riguarda il Friul. Non sono in regione composita, fatte in dos realtà, se il Friul è la Vignese e Giulia, anche il nono, Friuli, Venezia e Giulia, allora bisogna dare al Friul una sua unità, un ente che lo puoi rappresentare, perché io ho proposto di fare in Venezia e Giulia la città metropolitana di Trieste e fare la provincia del Friul, mettete insieme a Gurise, Udin e Pordenon. In questa maniera si arriva a un sistema come il Trento-Bolzano, non va a restare in pratica il Friul e la Trieste che si amministra a restare all'interno delle stesse regioni con più autonomia e rispondendo anche a queste sensibilità storiche, culturali, identitarie di territori che hanno, tra l'altro, due lingue, una volta differente, il Friul no e l'or è un vero italiano, ma soprattutto anche un sistema differente, anche dal modo di lavorare, dal modo di concepire la vita, i Triestini hanno altri concessi, altri modi di esprimersi. I Furlanse sono un'altra roba, allora bisogna essere mantieni i chistodiversità, ricognoscele anche all'interno di un ente pubblico, potete dire rappresentario. Urbanistica, territorio, cultura, e possiamo dire che queste serate servono proprio per scoprire e soprattutto radicare quello che è la zona, ad esempio, dello Stello. Certamente è stata una serata molto interessante perché non si è parlato in politichese, perché tutti i partecipanti, a cominciare dalla giornalista, da Viviana Zamarian, che ha fatto le domande giuste, hanno detto cose concrete, hanno parlato di riforme, hanno fatto capire che in Friuli c'è una politica decente, vicino ai cittadini, e che ha ragione Fontanini, il Friuli rappresenta un modello, ha sempre rappresentato un modello, e questo, quello che vediamo, sono andare a cercare delle migliorie continue, quando invece a Roma o nel resto dell'Italia spesso ci sono delle travi nell'occhio e che non riescono a risolvere assolutamente. Senta, abbiamo chiesto sia a Fontanini che a Panontin Rivignano Teor come laboratorio, possiamo dire, 2.0 di crescita del Friuli. Ma assolutamente, è stato un modello durante i mesi della fusione perché navigavamo a vista, perché non sapevamo cosa ci avrebbe aspettato. È stato un grandissimo successo e il successo continua, perché adesso è tutto da costruire. Abbiamo realizzato una cosa epica, e questa cosa proseguirà. Siamo un modello, ne ha parlato, ne parlano tutti, ce l'ha scritto ampiamente il Presidente della Repubblica e secondo me è proprio da Rivignano Teor che bisogna ripartire. Ok. Mentre Tiziana Cosmi sta continuando a parlare, allora abbiamo il neo-vicesindaco che adesso possiamo dire vice-sindaco dopo il mio incarico affidato una settimana fa per i nostri telespettatori. Senti una cosa, grande avvenimento a livello culturale, sportivo, non so. È effettivamente vero, in Riva all'Ostella c'è questo ed altro. Stai già ambientando? Ma per dire la verità sono un po' di casa perché mi trovo in mezzo a tanti amici quindi per me è facile. Ma che particolarità ha questi avvenimenti? Beh sicuramente l'amicizia che si riscontra, un sentimento che ormai è difficile trovare, ma qui ce n'è tanto, quindi è bello venire qua. Soprattutto divertirsi in San Alegria? Sicuramente sì, soprattutto quando c'è lo sport, un'attività a me molto cara. Il neo consigliere Meret cosa dici? Eh qua è un bel clima di amicizia, di sport a livello paesano, così è bellissimo da vedere, apprezzare. Fino a ieri tu ti presentavi a questi avvenimenti oppure? Ma sinceramente no. Un debutto, un battesimo? Sì, sì, perché adesso che sono appunto... Ufficialmente rappresentante del comune? Esatto, adesso mi chiamano a partecipare a queste manifestazioni qua che sono bellissime. Adesso ti chiederanno più soldi? Eh, no, mi sembra che stanno tagliando anche a livello comunale. I tagli e ritagli. Invece d'Orlando cosa ci racconta? Ma, come ogni anno a Flambruzzo, da tre anni a questa parte, da quando è stato costruito il nuovo campo di calcetto, l'associazione di Flambruzzo che gestisce il campo, organizza questo bellissimo torneo che è di Flambruzzo, e questo è lo spirito delle stazioni che valorizzano quello che i comuni danno alla collettività. Cioè, il campo di calcetto di Flambruzzo è stato costruito, dato in gestione a questa stazione, che lo sta gestendo molto bene e ogni anno sta organizzando questo torneo che ogni anno porta sempre più squadre a giocare e anche dei personaggi anche famosi come i nostri due portieri, uno dalla primavera, uno dalla prima squadra udinese. Due ragazzi, possiamo dire, due ragazzi con i piedi per terra, eh, Vada? Sì, sì, sì. Prima di tutto due friulani che, secondo me, faranno una bellissima carriera anche a livello sia nazionale che mondiale. Bene, cosa ci aspettiamo adesso? Tre birre e via, dai. Beh, adesso qui a Rivignano e anche nella comunità di Flambruzzo c'è sempre aria di festa. Possiamo dire che facciamo anche concorrenza all'area di festa di San Daniele stasera. Molto meglio. Beh, molto meglio. Ci manca il prosciutto di San Daniele, però la birra è molto buona, la gente è molto simpatica e avanti così. Il torneo è finito a livello calcistico, però la festa continua. Certo, la festa continua e non continua solamente questa sera, continuerà anche domani sera. Noi siamo contenti, miglioriamo anno dopo anno, quest'anno ci sono delle novità, abbiamo una presentatrice ufficiale, abbiamo avuto degli ospiti molto importanti e il prossimo anno faremo ancora di più, speriamo. Adesso inizieranno anche gli EMUI, no? 51esima edizione. Certo, è un'impresa anche quella. Sì, le abbiamo già servite in tavola. Sì, noi vi invitiamo. Questo è il nostro manifesto. Come ogni anno abbiamo tante cose, tanti avvenimenti, una cucina splendida, una gastronomia fantastica, ovviamente. sono due settimane ricche nel weekend di impegni e di avvenimenti importanti. Tante cose, insomma. Tantissime cose, sì. E cerchiamo di fare sempre di più. Col tendone nuovo? Sì, ci siamo attrezzati. Abbiamo un tendone che probabilmente rimarrà fisso. Adesso vedremo come organizzarci per avere la possibilità anche di utilizzarlo non solo per gli avvenimenti sportivi e per la straga degli EMUI, ma eventualmente anche per altre iniziative. È a disposizione eventualmente. Sempre operativo? Sempre operativo, sì. Anche perché vorrei dire solo una cosa. Flambrusso, la comunità di Flambrusso e gli organizzatori sono veramente fantastici. Ci diamo da fare, ci impegniamo e cerchiamo di dare del nostro meglio proprio. Allora, io metto la seppa, come si dice in italiano, la seppa, la seppa, la seppa la metto qua. Allora, non resta che ringraziare i nostri amici per questa bellissima serata perché ancora una volta guarda che stella è il secondo anno, come guarda che stella che vi seguiamo all'interno delle varie iniziative. Guarda che stella intanto non finisce qua anche questa puntata perché adesso ci trasferiamo a Teor per la manifestazione dedicata alla locale sezione dei donatori di sangue. Sì, quando il centro trasfusionale della nostra provincia ha chiamato i donatori a donare e viene chiamato tramite la presidenza delle sezioni che sono loro che hanno un schedario che aiutano i donatori a sezioni gruppi che appartengono se l'è un zero negativo, un zero positivo che di solito dicono che il sangue universale è il zero negativo che è il più utilizzato sia su interventi di incidenti quando è successo un incidente molto grave a partire con l'elicottero, un esempio e partire in via 70 sacchi, sono 50 di zero negativo. Comunque a chi è che il conto è che i furlans erano sempre presenti? Sì, la nostra associazione, la FDS furlane ha radici fondati dai nostri nonni dai nostri genitori che avevano un gran coro sul dono del sangue, sul volontariato non solo sul donare ma anche su altre attività su altre associazioni e sono sempre partecipi e rispondono sempre quando vengono inclamati a un dono che è il covento per i malati. 55 anni e non senti io? Sì, effettivamente io cocaina della sezione non eri temodrenti quindi non sono 55 anni che io seguisco naturalmente però bisogna rinnovarsi perché il sangue è il covento e il covento è in forme differenti quindi vengono preparati a queste sfide che vengono presentate in futuro. ecco, questa manifestazione serve anche per riconfermare che l'impegno da ente per aiutare chi ha bisogno sì sì senza altri è in forma di pubblicità tirando i cittadini tirando i giovani disegna questo atto di generosità che pare di essere spontaneo però tante volte con un piccolo sbrunco con un piccolo input arrivano a velo perché probabilmente tanti uomini non sanno l'effettiva necessità di sancare perché se farsi un gatto agli ospedali o se si informassi in vento dovremmo che non si sa non si sa non si sa non si sa ecco chi è che il conto è che l'entra risponde sempre sì sì senza altri cosa che abbiamo bisogno abbiamo organizzato volte che stanno in l'automoteca abbiamo avuto un'adesione forte di giovi anche l'anno passata abbiamo avuto 7 nuovi donatori speriamo che continuino per questa opera allora non resta che là in davanti sempre in davanti ci rende migliorare di aumentare il numero delle persone che collaborano con noi e anche che dansano grazie come sempre per l'ascolto alla prossima